Ciao creatura Io sono Ecate Splendente, benvenuta, bentornata nel regno di Cosai ASMR Benissimo, iniziamo oggi di Porto a visitare un po' il mio giardino, l'orto Quindi iniziamo con un po' di repellente per insetti, per stanzare di ogni genere Perché è pieno l'orto in campagna e così, soprattutto io che vengo punta da qualsiasi cosa Mi devo sempre proteggere, quindi proteggiamoci, li ho spruzzato a caso Vabbè, me lo metto anche sul collo e sulla faccia perché di solito mi pungono anche in faccia gli insetti Vabbè, ne prendo atto e mi metto il mio repellente Adesso andiamo in orto, vieni con me Intanto volevo fare un audio direttamente così Ma c'era questo cane che non si è ancora abituato alla mia presenza Quindi mi abbaiava che è la cagnolina o il cane, non so se è maschio femmina della vicina Comunque, ti becchi il voice over che forse è anche meglio Questo è un albero di more che aveva piantato tanto, tanto, tanto tempo fa mio nonna Non è più, non ci sono più more mature, ormai sta finendo la stagione delle more Quindi sono un po' tutte secche, tranne quelle due lì E poi qui mio zio ha piantato un sacco, un sacco, un sacco di piante, di lamponi Secondo me anche un po' troppe, ecco, perché tante non hanno fatto frutto, eccetera, eccetera Poi qui c'è un albero di melograno E qui c'è una piccola piantina di salvia Andiamo a vedere se ci sono delle zucchine da poter raccogliere insieme Intanto facciamo una prima occhiata, no? Delle verdure che potrebbero interessarci Allora vedo che ci sono delle zucchine Lasciate crescere così in libertà E sono diventate delle zucchine giganti Quasi al pari delle zucche E sì, se te lo stai chiedendo, si possono mangiare anche queste zucchine giganti E hanno un sapore più intenso di quelle piccole Qui andiamo a vedere I miei zio hanno deciso di quest'anno sperimentare e piantare i datterini gialli Io non li avevo mai mangiati, sono veramente, veramente buonissimi E come tipologia di pomodoro, il datterino è il mio preferito E non so scegliere se mi piace, non so dirti se mi piace di più giallo o russo E quest'anno li abbiamo piantati entrambi Li abbiamo, i miei zii praticamente Perché io lavorando non ho avuto tempo Quest'anno di stare dietro queste cose E però mi impegnerò di più il prossimo anno E i miei zii sono pensionati Quindi hanno il tempo, beati loro, di fare queste cose qua E buonissimi, comunque veramente buonissimi Abbiamo anche dei datterini rossi, belli maturi Buoni buoni A me piace mangiarli in salata Con semplicemente un po' di olio, d'oliva e di sale A volte anche con un po' di aceto e balsamico Ma anche semplicemente solo con l'olio Sono molto buoni A te piacciono i datterini che ho dura? Hai mai mangiato quelli gialli? Fammelo sapere con un commento qui sotto E se ti piacciono queste verdure Lasciami un bel like Ah, qui ti mostro Allora in Veneto si chiamano tegoline In realtà per tutto il resto del mondo Sono i fagiolini E non ce ne erano C'erano pochissime piccole Perché le hanno già state raccolti Poi ho visto che mia zia ha piantato anche i meloni E tutte queste verdure, parla, frutti Sono stati piantati un po' tardino Infatti vedo che però un melone Come sperimento è riuscito Perché uno è nato E per vari motivi loro personali Le hanno un po' piantati tardi Però vabbè dai Sempre meglio che niente Qui c'è del prestemolo E poi ci sono queste Questa lattuga che è cresciuta troppo E è diventata una piramide Qua ci sono i zia zia O tipo zia zia con la manina Zia zia Andiamo a vedere Qui ecco sappiamo Ah, un altro albero Un altro melograno Con già i frutti belli grossi Ovviamente non sono ancora maturi Matureranno quando saranno belli rossi Penso che tu lo sappia già comunque Quale creatura Qui invece ci sono delle piantine di fragole Che mio zio ha giustamente protetto Con questa rete Perché agli uccellini piacciono tanta E se li venivano a fregare Anche qua il periodo delle fragole Diciamo che è finito Però nonostante tutto Con questo caldo Ne sono nate ancora Qui un'altra passione di mio zio I girassoli Non so cosa gli servono Però si sono anche solo per bellezza Sono belle insomma Giusto così Poi qua ho fatto tutta una costruzione Per far arrampicare La zucca Però appunto Piantandola un po' tardi Ancora non ne sono nate Ed è un po' strano Perché poi Si dovrebbero raccogliere Li verso settembre Ottobre Però hanno fiorito Quindi c'è ancora un po' di speranza Di solito le piantavo io le zucche E invece quest'anno Ci ha pensato lui Però appunto Per adesso Non è nata neanche una E non so neanche che Tipologia di zucca Abbia piantato Però vabbè Vedremo Con il passare del tempo Se ne nascerà qualcuna Qui invece c'è La menta Di solito Siccome è infestante La menta Nasce ogni anno Fa dei mega cespugli Il mio zio Qua l'ha già tagliata Io ci ho fatto anche lo sciroppo È buonissima Poi Ho accroccato La videocamera In qualche maniera Perché volevo fare La raccolta Delle verdure In tua compagnia Però Non si vede un gran che Vabbè Fa niente Raccolgo Tre zucchine Questa devo ancora Mangiarla Poi ne ho prese Due Veramente giganti Che ho già mangiato Adesso Questi sto facendo Il voiceover Ti dico Allora Questa qui L'ho mangiata Vediamo qual è Questa qui L'ho fatta A rondelle O è quella Che ho mangiato io Vabbè Una delle due L'ho mangiata tutta io E l'altra L'ho fatta A chips In forno Sì quella lì L'ho fatta a chips E invece quella Che hai visto prima Me la sono mangiata tutta io L'ho fatta a tocchetti Con un po' di olio E di Andiamo Devo dire di datterini Tanto E con un po' di aglio In polvere Qua cercavo Di fare un'inquadratura Poi dopo La Cinocchio davanti Non si vede più niente Vabbè O io ci ho provato Comunque Semplicemente Ho qualche Datterino giallo E qualche Datterino rosso Qua te li mostro Niente di che Niente di speciale Quindi Eccoci qua A raccogliere un po' di Datterini Ipero che questo video ti piaccia E se ti piacciono Fammelo sapere Che te ne faccio altri Più avanti Se hai qualche richiesta Fammelo pure sapere Eccoli qua Questo qui è la La ricompensa Tutti Tutto il bottino Di oggi Tutti i pomodorini Le tre zucchine giganti Che ho raccolto Con il mio sacchetto Del Lidl Poi Allora Dato che qualcuno Aveva Insinuato il fatto Che non era vero Quello che ho detto Che stavamo Accendo i lavori E che andrò A abitare qua Datti non mostro Creatura Visto che Allora La porta Che c'è adesso Non ci sarà più Perché dobbiamo Cambiare i serramenti Abbiamo cambiato Il colore Nella casa Ha fatto il cappotto E altri lavori Interni Che adesso Non si vedono E Appunto Lì cambieranno Te la farò vedere Magari man mano Perché Qua c'è la mia macchina E Era per farti vedere Come è fatto il giardino E l'orto E Perché Se non ti faccio vedere Le cose Era perché Allora qua c'è Il piano di sopra Il mio E ho detto Che avrei fatto vedere Tutto A lavori finiti Però siccome Sta passando Del tempo La gente Si pensa Che io Dica le cavolate In realtà Se non mostra Perché i lavori Non sono ancora finiti Perché non basta Schioccare le dita E i lavori Finiscono in un balena Cioè E' quello il senso Comunque Ti è Non ci credevi Tieni Portata a casa Ti è Creatura Eccoti il casa mia Mi so che non ci credi Eccatela qua Comunque Mi piace Il nuovo coloro Che hanno fatto Adesso Vabbè Io volevo la porta verde Invece La forrano Porto Vabbè Lo stesso Dai mi accontento Questo appunto E' tutto il giardino L'orto Qui c'è l'orto Qua Avevo piantato Dell' De l'uva spina Presa lì Dell'anno scorso Era tipo morta Adesso invece Ha ributtato Le foglioline Boh Prima o poi Suggero Quest'uva spina Non si sa Qua c'è tutta l'uva Quella Vera C'è L'uva fragola E l'uva bianca e nera E poi qua c'è appunto Tutto l'orto Qui invece abbiamo Una pianta Di Pere Sono già nate Sono anche abbastanza Grandicelle Sono tipo Pere Kaiser Mi pare Buone Mi piacciono Che spesso Vengono Le vespe E ci mangiano Le pere Da quanto Sono buone Poi qui abbiamo Una pianta Di giugiole Che a me piacciono Tanto Mangiamo Verso settembre A te piacciono Le giugiole Creatura Le conosci E poi Qua c'è un'altra Pianta Indovina di cosa Lamponi Esattamente Qua è nata Spontaneamente Questa pianta Di Ficchi Però Il vento Di questi giorni La rotta Poi Questa palma qua L'avevamo piantata In un'altra parte Mio zio L'ha spostata lì Ma dove Nel punto Dove io Volevo piantare Il mio mango Perché è una pianta Di mango Che sto facendo crescere E quindi adesso Dovrò decidere Un altro punto Dove piantarla Qua Non so Se è nata Spontaneamente O se l'ha piantata Mio zio C'è un'altra pianta Di giugiole Nuova Che ho notato Solo Il giorno Che sono andata A fare il video Poi Altri Girasoli Insomma Abbiamo capito Che a mio zio Piacciono molto Anche se io Voglio piantare Altre cose Più avanti Poi Un'altra Bellissima pianta E buonissima Pianta Di salvia Buonissima Anche fritta Ok Ma già che ci siamo Di faccio del giardino La mia macchina Che avevo parcheggiato All'ombra Ma poi facendo il video Era noto il sole Questo è il giardino Questo è il mio albero preferito Che non so come si chiami Ma mi è sempre piaciuto tantissimo Che bella giornata Poi ha fatto questa composizione Mia zia e mio zio All'entrata Molto elegante Mi piace Spero che questo video Ti sia piaciuto Io ti auguro Buonanotte Buon relax Ciao Creatura